Ma che schifo, mandatemene tutti a fan... Carissimo DeBoss, ti hai consigliato Red Crucible Reloaded perché mesi fa noi abbiamo fatto la recensione di Red Crucible Firestorm, abbiamo fatto di recente gameplay e sai che Red Crucible Firestorm ci fa cagare? Tu ci hai consigliato questo nuovo Red Crucible che è uscito tipo l'altro ieri, Red Crucible Reloaded. Ma che è Matrix Relo... Praticamente adesso la Rocketeer Games ha Firestorm e ha Reloaded, Reloaded è un mix tra il vecchio Red Crucible e Firestorm. No perché tutta l'acqua no così eh! Cosa c'è in questo Red Crucible nuovo? Reloaded, Matrix, scocchia... E ti ho dato un po' il culo! Praticamente in questo Red Crucible ci sono le mappe del vecchio Red Crucible 2 con le meccaniche, alcune meccaniche di Firestorm. Il risultato? Una mezza giofega! Non ci è piaciuto molto il risultato perché vi spiego, allora, le meccaniche di recoil, delle armi, la velocità nella quale si muovono i personaggi, tutto il gunfight uguale a quello di Firestorm. Hanno in poche parole abbassato la qualità grafica di generale per farlo girare su tutti i PC, anche sui PC dei ragazzini che vivono con PC da merda. Ragazzi, insomma, avete capito? È un mix tra questi due giochi, la merda di Firestorm con le cose belle di Red Crucible 2. Ma non era meglio fare tutto semplicemente come Red Crucible 2? E poi inoltre, lo sai qual è la differenza? Lo sai tu qual è la differenza? Lo sai? No! Lo sai! Gioca a questo gioco, tipo Gianluca, c'era piccolo. Guarda te lo metti in... Poi lo sapete, le grandi differenze, quali sono le grandi differenze? È che nel reloaded non ci sono i tier, i livelli, come in Firestorm, è come nel vecchio Red Crucible. Questo può essere visto come un qualcosa di positivo perché tutti alla fine giocano allo stesso livello e non c'è magari quello che è leggermente più potente dell'altro, quindi... Basta shoppare e il livello non conta più! Ciao Gianluca! Ciao Clash! Spassola! 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 È possibile che un gioco nel 2015 ancora ho ritardi nell'input del mouse? Vaffa culo! Vaffa culo! Bravo Mauro!